Buonasera a tutti voi. Ci stiamo ormai abituando, nostro malgrado, a questo modo di incontrarci e vivere insieme questo 51esimo convegno nazionale. Diremo non male, cerchiamo di cogliere l'opportunità di incontrarci nonostante la situazione che stiamo vivendo. Siamo a venerdì e ci accingiamo a passare in rassegna gli eventi ai quali siamo chiamati a partecipare nel corso di questa serata. Aprirà l'incontro il nostro presidente Alberto Finizio che ci intratterrà sulla figura del nostro primo presidente, Angelo Stefanucci, a 30 anni dalla sua scomparsa. È un'occasione unica per conoscere più approfonditamente la figura di questa persona che nella storia della nostra associazione ha voluto dire tutto e che una parte di noi forse ha solo sentito nominare. A seguire ancora una parte, e sarebbe la terza, di una selezione in anteprima delle opere che si potranno ammirare nelle esposizioni di arte presepiale previste per il Convenne a Rieti nel 2021. In particolare potremmo ammirare lo storico presepio della cattedrale e le installazioni fisse di Francesco Artese, dedicata ad alcuni momenti salienti della vita di San Francesco. Il prossimo anno, in occasione del convegno, potremmo ammirare anche la terza opera del Maestro che verrà inaugurata tra poco più di un mese, lì a Rieti. Buona visione e buona serata. Arrivederci a tutti.